Bene, ci siamo tutti, buonasera a tutti, io sono Stefano Lorusso e a me il partito ha dato il compito di moderare il dibattito di questa sera che ha il seguente titolo la spending review tra emergenza e sviluppo. Questa conversazione la facciamo con i nostri ospiti che ringrazio ovviamente di essere qui e mi scusi innanzitutto col piccolo ritardo con cui iniziamo questa discussione. Parto con le presentazioni a partire lì dalla mia sinistra, l'onorevole Bruno Tabacci che è assessore al bilancio della città di Milano nonché noto alle nostre cronache politiche. Qui alla mia sinistra Stefano Fassina che è responsabile economia nazionale del PD, ho poi Cortese che è il segretario della UIL Piemonte e chiude il panel dei nostri relatori il senatore Enrico Morando che è attualmente in commissione bilancio al Senato. Allora cercheremo di rendere un po' vivace questo dibattito e se avremo un po' di tempo, compito mio sarà anche quello di contenere un po' gli interventi in maniera da poter consentire a tutti di intervenire e di provare a spiegare un po' le cose che vengono dette. Poi se abbiamo un po' di tempo magari potremo lasciare qualche spazio al termine per qualche domanda qualora ci fosse appunto l'esigenza. Bene, io nel preparare qualche domanda ho consultato il sito del governo, governo.it, che ha una pagina dedicata alla spending review. Per chi di voi non l'avesse letta leggo solo tre righe. Riformare la spesa pubblica non è una missione impossibile, considerato che nella gestione della spesa pubblica ci sono ampi margini di risparmi e razionalizzazione. Ci sono sprechi nella produzione dei servizi quando una macchina costosa e ad alto potenziale viene sistematicamente sottoutilizzata o quando si acquistano fattori produttivi pagando prezzi superiori al mercato. A cosa serve la spending review? Che è questa parola inglese che di fatto, come dire, stasera proveremo un pochino ad analizzare. Quattro punti dice il governo nazionale. Eliminare sprechi e inefficienze. Garantire il controllo dei conti pubblici. Liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo. Ridare efficienza al settore pubblico allo scopo di concertare l'azione su chi ne ha bisogno. Io parto dall'onorevole Tabacci e gli chiedo, ma questi obiettivi, questa spending review fatta dal governo Monti, li ha raggiunti, li sta raggiungendo, li sta perseguendo bene o no? Tanto grazie. Ma è difficile contestare l'obiettivo che il governo pone con questo termine inglese, che poi significa analisi della spesa e rendicontazione. dovrebbe essere sempre così e che nel nostro paese si spenda male, mi pare che non c'è bisogno di dilungarsi molto. L'esperienza quotidiana fa emergere un'impressione di una spesa pubblica che è molto dilatata e che ha dei risultati non sempre vicini alle attese dei cittadini. Mi era capitato di sostenere in un libro qualche anno fa che se guardiamo la sanità sembra che sia organizzata non in difesa del cittadino malato, ma in difesa di chi vi opera. E anche nella vicina Lombardia le dimostrazioni pratiche non hanno tardato a venire con grande forza. Se penso alla vicenda del San Raffaele, da sola imprime una svolta molto robusta, così come la spesa per la giustizia appare in funzione non del cittadino che ha sete di giustizia civile e penale, ma magari in relazione a chi vi opera, dai magistrati ai professionisti, a quelli che pensano al diritto fallimentare e al fatto che finché c'è un pezzo del patrimonio da affondare, c'è sempre una richiesta di un parere che porta poi le procedure all'infinito. Se penso alla scuola, più che in funzione di chi dovrebbe crescere il patrimonio umano, sembra in funzione di chi vi opera, tant'è che abbiamo licealizzato l'università inventandoci una proliferazione di centri universitari e di insegnamenti che hanno tutto fuorché, diciamo, legida della eccellenza. Allora è chiaro che qualcosa bisogna fare, questo vale per il centro e vale per i comuni, qualcosa di serio a cui oggi siamo costretti, perché probabilmente nel passato, in periodi di maggiore equilibrio sarebbe stato ragionevole, ma poiché si pensava che l'epoca delle cose facili non avesse termine, malgrado alcuni avessero visto lungo, penso alla commissione di Padova Schioppa, anche al lavoro fatto da Piero Giarda, ci sono degli italiani che negli anni trascorsi hanno dedicato molta attenzione a questa analisi della spesa, alla sua, diciamo, analisi chirurgica, per vedere le cose che debbono essere fatte, quelle che debbono essere rese più efficienti, avendo come obiettivo l'interesse finale del cittadino. La questione riguarda la spesa pubblica dei ministeri e riguarda anche la spesa degli enti locali, non è che guardando il bilancio della mia città non abbia cominciato a vedere che ci sono molte azioni che si debbono fare e che sarà necessario fare, perché finora abbiamo immaginato che la difesa dei servizi potesse avvenire allo stato in cui è organizzata oggi. Io invece penso che i servizi devono essere profondamente rivisti e riorganizzati, perché non tutto che è spesa locale è una spesa che va nella direzione della resa sociale e dell'efficienza produttiva. E poiché la difesa dei più deboli passa attraverso una efficiente gestione della spesa, perché se trattiamo tutti alla stessa maniera vuol dire che non abbiamo un occhio di attenzione per i più deboli. Un'azione di recupero e di efficienza sul tema della spesa pubblica è fondamentale. E comunque ci saremo costretti, ed ho finito, perché ci siamo costretti dalle condizioni complessive, generali. La crisi è di una profondità storica, non ha precedenti. In fondo veniamo da più di un ventennio nel quale l'Occidente intero, non solo l'Italia, non solo l'Europa, hanno vissuto stabilmente al di sopra delle loro possibilità, cioè hanno consumato più di quello che hanno prodotto. Pensando che altri pagassero i debiti che nel frattempo siamo andati accumulando, questa è la sostanza. E comincia dagli Stati Uniti, non è che il discorso riguarderebbe solo gli europei. Allora è evidente che un occhio più attento, perché non si possono stressare i cittadini che pagano le imposte fino all'infinito, deve essere dato all'oculatezza con cui si gestisce la spesa. A proposito dei cittadini che pagano le imposte, è chiaro che la premessa fondamentale è che le paghino tutti, e che non le paghi solo una parte relativa dell'economia italiana, perché diversamente quelli che sono indotti a pagarli o costretti a pagarli sostengono un peso delle aliquote che diventa in contrasto con una comunità che vuole vivere pacificamente. È chiaro che quando sullo stesso pianerottolo si ha la sensazione che non tutte le cose sono trasparenti e che quello che fa il vicino di casa non coincide con quello di chi abita e di chi vive in pace con il fisco, va da sé che il problema rischia di avere degli sconfinamenti di equilibrio civile di non poco conto. E allora mi pare che questo è il lavoro che si deve fare. Noi stiamo tentando di fare con l'aggiunno qualche cosa di importante sul punto, credo che sia un dovere civico, non è che bisogna essere dei fenomeni. Quello di usare bene i denari di tutti è fondamentale e per fare questo ci vuole anche una classe di amministratori, di dirigenti politici che abbiano la testa sulle spalle e che prima di pensare agli interessi propri pensino agli interessi della gente. Quindi l'Italia e l'Europa a partire dagli Stati Uniti hanno vissuto sopra le loro possibilità per oltre un ventennio, l'hanno fatto ricorrendo all'indebitamento e oggi ci troviamo in una situazione di emergenza dei nostri conti pubblici. Nasce il governo Monti, è chiaro che un giudizio politico sulla spending review è un giudizio politico sul governo Monti, il Partito Democratico è una delle tre forze politiche che sostiene questo governo. Io chiedo a Enrico Morando il giudizio politico da parlamentare del PD di questa fase del governo Monti, questo governo sta facendo bene, non sta facendo bene e la spending review ovviamente è un'occasione per fare anche una valutazione politica su questa questione. Io volevo parlare un pochettino della spending review, però se devo parlare del governo, parlo del governo, il governo Monti è prima di tutto un governo presieduto da una persona che quando va in Europa si siede di pronte agli altri leader europei, comincia a parlare, gli altri lo stanno a sentire, non si vergognano di essere seduti allo stesso tavolo, concordano o non concordano, spesso non concordano come sappiamo e questo è un problema, ma abbiamo riacquistato la parola nella sede, quella europea, alla quale sono legate e da cui possono venire le soluzioni per i problemi del nostro paese, perché non c'è soluzione della crisi italiana in Italia, la soluzione della crisi italiana è in Europa. Prima con il governo di centro-destra noi non eravamo interlocutori affidabili in sede europea, i grandi leader d'Europa non si volevano fare fotografare con il capo del governo italiano, per delle ragioni che conosciamo. In questo momento noi abbiamo riacquistato diritto di parola, chiunque sottovaluti questo elemento è uno che non sa di cosa parla, questo è il mio modesto parere. Naturalmente il governo Monti perché ha riacquisito diritto di parola? Certo, un po' per la credibilità del Presidente del Consiglio, ma anche a causa di quello che ha fatto in Italia. È una grande strategia riformista di sinistra quella del governo Monti, adesso su, diciamo, nessuno sostiene questa assurdità. Il governo Monti è nato con uno scopo preciso, quello di tentare, tentare di salvare l'Italia da una catastrofe ormai imminente e in larga misura preparata da chi governava. Sta riuscendo in questo tentativo? Siamo già sicuri che riuscirà? La mia risposta è purtroppo no, poiché la crisi europea è talmente profonda che è possibile che essa precipiti in una catastrofe di qualcuno dei paesi in difficoltà, di quelli grandi, che potrebbe trascinare con sé la catastrofe dell'euro e quindi con la catastrofe dell'euro la catastrofe dell'intera Unione Politica Europea, cioè della più grande costruzione politica che noi abbiamo realizzato nel dopoguerra. È vitale che l'Italia faccia le cose che deve fare come sistema paese per fare in modo che l'Europa si metta in grado di affrontare la crisi drammatica che la travaglia. Passi avanti se ne sono fatti su questo versante è del tutto evidente che non sono tutti quelli necessari. Penso che di qui alla primavera del 2013 il governo Monti debba di più concentrare la sua iniziativa piuttosto che disperderla in mille rivoli. Da questo punto di vista un giudizio da parte mia piuttosto critico su come si sta affrontando il cosiddetto tema delle misure per la crescita c'è. Secondo me quel seminario della scorsa settimana ha affrontato troppi temi e non si vede un ordine di priorità. Bisognerà, secondo me, che le forze politiche non si mettano a polemizzare ma semplicemente a sottolineare l'esigenza di una scala di priorità più netta, da questo punto di vista io sono relativamente fiducioso. Perché? Perché se noi riusciamo a portare in porto positivamente l'operazione che abbiamo chiamato revisione integrale della spesa, si può anche dire in italiano non succede niente di male, noi dovremmo essere in grado nei prossimi mesi di avere una quota di risorse sufficiente da un lato attenzione, da un lato per non aumentare l'IVA. Perché bisogna sempre ricordarci che il governo di centrodestra ci ha fatto un ultimo regalo prima di prendere atto che non ce la faceva, ha inserito in norma di legge e quindi è norma di legge o meglio lo era a partire da luglio di quest'anno, se non ci si fosse messo rimedio e poi via via, ancora per il prossimo anno ci siamo, ha deciso di aumentare l'IVA. Dobbiamo avere successo nell'operazione di revisione della spesa perché è vitale per l'interesse del paese, la prima misura per la crescita è non aumentare l'IVA, il cui aumento è stato previsto dal governo di centrodestra per una prima fase scongiurato dal governo Monti con la realizzazione della revisione della spesa ma incombe su di noi per il 2013. Bisogna che adesso abbiamo una fase di successo nella revisione della spesa che consenta di non andare in quella direzione perché quello sì sarebbe un colpo che potrebbe risultare esiziale per le prospettive di crescita dell'Italia. Naturalmente la revisione della spesa però è termino, deve essere realizzata in funzione di un disegno di più lungo periodo, non c'è solo l'obiettivo di impedire che si realizzi l'aumento dell'IVA. Qual è l'obiettivo? Ma insomma io lo direi in modo semplice così, se a uno che più o meno la pensa come noi si chiede ma come mai lo Stato deve realizzare un così importante intervento nell'economia, cioè deve prelevare attraverso le tasse così tante risorse che poi spende intervenendo nell'economia, nell'organizzazione della società. Se questa domanda viene fatta a uno che più o meno la pensa come noi, che cosa noi rispondiamo? Abbiamo una risposta pronta e giusta. Noi vogliamo che lo Stato intervenga diffusamente nell'economia e anche in maniera massiccia quando è necessario perché se non lo facesse il livello di sviluppo economico, cioè la crescita e il livello di giustizia sociale sarebbe infinitamente minore rispetto a quello che può essere, cioè l'intervento dello Stato in economia attraverso il prelievo, le tasse e attraverso la spesa pubblica, quella di cui stiamo parlando questa sera, serve per sostenere lo sviluppo, avere più crescita più di quanto non se ne avrebbe se questo intervento non ci fosse e avere più giustizia sociale perché altrimenti se l'intervento dello Stato non ci fosse i più deboli verrebbero lasciati irrimediabilmente indietro e quelli che la pensano come noi non sono d'accordo sul fatto che i più deboli vengano lasciati indietro. Ora è per questa ragione che noi giustifichiamo la spesa pubblica e noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere, questa è la revisione della spesa, dal primo fino all'ultimo euro che spendiamo, se ognuno degli euro che spende lo Stato, che spendiamo, noi che dirigiamo lo Stato, i governi, i parlamenti che prendono decisioni di bilancio e così via, ogni euro si giustifica perché ottiene un risultato in termini di maggiore crescita e di maggiore sociale. L'analisi della spesa in parte significativa l'abbiamo fatta e abbiamo concluso che con quello che spendiamo e quello che preleviamo si può ottenere molta più giustizia sociale e molta più crescita. Evidentemente bisogna fare qualcosa per cambiare la quantità di questa spesa che non è superiore a quella degli altri paesi, abbiamo solo una spesa per interessi molto più elevata rispetto agli altri perché abbiamo un volume globale del debito più alto, ma soprattutto dobbiamo sottoporre ogni euro di spesa ad una revisione integrale dal più piccolo comune fino al più grande dei ministeri perché solo così riusciremo a mantenere fede alla promessa. Lo Stato secondo noi deve prelevare dall'economia, dalla società risorse per spenderle nella società perché deve fare più crescita e più giustizia. Crescita e giustizia sociale, su questa parola giustizia sociale chiedo al segretario della UIL un giudizio politico, partendo da un dato, uno dei primi atti che ha fatto questo governo come ben sappiano è stato toccare il sistema pensionistico. Do un dato, dal 1951 al 2010 l'esborso per pensioni sul totale della spesa pubblica in questo paese è passato da 9,4 al 30,2, cioè oggi più di un euro su tre di spesa pubblica, stiamo ragionando di spending review, cioè di revisione della spesa pubblica, tocca al comparto pensionistico. Allora io chiedo al segretario della UIL che in prima linea come sindacato ovviamente è attento al tema sociale e inevitabilmente gioca la sua parte di parte sociale nella difesa proprio dei ceti più deboli. Dal suo punto di osservazione qual è invece il giudizio, o conferma il giudizio che mi pare sostanzialmente, pur con tutti distinguo i sei ma positivo dei primi due interventi rispetto a questi atti del governo Monti. Sì buonasera, ma intanto io devo andare contro corrente per dire esattamente quello che è il pensiero mio e della mia organizzazione sull'operato del governo Monti. Detto e riconosciuto che il governo Monti è riuscito a dare credibilità all'Italia dopo un periodo quanto mai convulso che volentieri ci siamo messi alle spalle, devo dire che il governo dei tecnici farebbe bene a esaminare la propria opera di nove mesi alla luce dei dati che sono sotto gli occhi di tutti. E i dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che abbiamo un debito che è 123% del nostro prodotto interno lordo, prodotto interno lordo che è 7 punti in meno rispetto all'inizio della crisi, cioè rispetto al 2007, abbiamo una disoccupazione al 10,7% con un 34% di disoccupazione giovanile, con dati di oggi, negli ultimi 5 anni un milione e mezzo di posti persi per la fascia che va fino ai 35 anni e un 26% di posti in più per effetto anche delle riforme pensionistiche per chi invece si colloca nasce dai 55 anni ai 64 perché non può più andare in pensione. Questi sono i dati veri secondo me che mostrano come il Paese sia in profonda recessione e sul piano della giustizia sociale alcune cose gridano vendetta. A cominciare da quella paccata per usare il linguaggio di un ministro conosciuto di persone che rischiano di trovarsi senza lavoro, senza indennità e senza pensione che sono gli esodati. Gli esodati, brutta parola, sono i non salvaguardati, vale a dire tutte le riforme previdenziali precedenti hanno sempre messo una norma di salvaguardia per tutelare coloro che avevano firmato per la fuoriuscita dal mondo del lavoro. Questa volta questo non si è fatto. E per quanto riguarda la previdenza i nostri ospiti sanno bene che il sindacato ha chiesto da sempre di dividere previdenza da assistenza. Nel senso che il dato dell'incidenza della spesa che è il 14% tiene conto del fatto che viene calcolato anche la spesa che dovrebbe essere spesa assistenziale, vale a dire il pagamento delle pensioni sociali, gli assegni di accompagnamento, gli assegni per nucleo familiare eccetera eccetera. Se noi depuriamo il dato di questo vediamo che la nostra spesa è in equilibrio ed è in linea con gli altri paesi. Anzi dirò di più. Nel primo semestre di quest'anno gli assegni di pensione pagati dall'Inps sono stati il 47% in meno rispetto allo scorso anno. Prima ancora che si applichi la riforma Fornero, già solo per effetto del prolungamento di un anno della finestra e del gradino che era stato previsto dal governo Berlusconi. Questo ci porta a dire che alla fine per paradosso quelli che andranno più tardi in pensione saranno gli italiani, più ancora che dei tedeschi e dei francesi per i quali addirittura il nuovo Presidente della Repubblica sta facendo marcia indietro. Allora dal punto di vista della giustizia sociale credo che sia chiaro a tutti che questo governo sia stato molto timido con i forti e con i potenti e sia stato molto baldazzoso invece nei confronti dei poveri. E anche il trasferimento delle risorse in meno che ci sarà nei confronti dei comuni, pensate il Comune di Torino, 14 milioni quest'anno, 56 il prossimo anno, rischieranno di non poter rispondere alle nuove povertà che per effetto della crisi si formeranno ulteriormente nelle nostre città. Sul tema di poi come la revisione della spesa per usare la locuzione italiana e non la spegnere di più si distribuisce, poi volevo fare il secondo giro di domande agganciandomi a questo tema di come il governo centrale ha la buona abitudine di tagliare sempre le spese lontane dal centro, cioè sui comuni, ma ci arriviamo dopo anche avendo l'occasione di avere l'assessore del bilancio del Comune di Milano. Giudizio espresso da Cortese sul governo mi pare molto netto, guardo Stefano Fassina che è il nostro responsabile economia, che in questi mesi avendo questo importante incarico nazionale nel partito ovviamente più di tanti altri segue da vicino le questioni e interviene nel merito. Io lascio a lui una valutazione politica sia sul merito quella della spending review e ovviamente più in generale su queste questioni che venivano dette, questo governo Monti ha fatto una spending review guardando di colpire solo i deboli e tutelare i forti o no? Grazie, buonasera. Io ritengo che si debba partire veramente dal contesto, altrimenti non si riesce a dare una valutazione politica sensata, perché dobbiamo partire da dove si è avviato il governo Monti, perché altrimenti non capiamo. Ora è facile, siccome spesso abbiamo la memoria molto corta, non ricordare quello che è successo prima, ma tanti guai e tanti interventi emergenziali che abbiamo fatto da dicembre ad oggi derivano dal fatto che per tre anni e mezzo non si è guardato in faccia quello che stava succedendo, io questo non lo rimuoverei. Poi con tutti i rilievi specifici che su aspetti specifici si possono fare. Ora prendo proprio la spending review e provare a fare una valutazione politica. Tu all'inizio hai elencato leggendo sul sito della Presidenza del Consiglio i quattro obiettivi per cui si fa la spending review. Sono quattro elencati, ma in realtà l'obiettivo di gran lunga prevalente è stato quello che è al secondo posto, e cioè il controllo della finanza pubblica. Ora, spending review o revisione della spesa non vuol dire taglio, review non è taglio, vuol dire revisione, vuol dire riallocazione, vuol dire migliore efficienza, vuol dire necessariamente taglio. Noi quando invece parliamo della spesa, in realtà stiamo parlando in modo esplicito o implicito di fare tagli, questo è l'obiettivo. Poi certo vogliamo pure razionalizzare, migliorare l'efficienza, ma il punto fondamentale è che noi non è che vogliamo, dobbiamo fare tagli. Il punto politico che vorrei mettere in evidenza è questo, io non sono sicuro che nell'area euro noi siamo sulla rotta giusta, con le misure che stiamo prendendo, e parlo di area euro perché altrimenti anche qua non capiamo, perché ha ragione Morando su questo, lo spazio per atti unilaterali a livello nazionale, è molto ristretto, questo però non ci deve far perdere di vista dove sta andando la rotta. I dati sull'occupazione sono preoccupanti per l'Italia, ma i dati sulla disoccupazione hanno la stessa dinamica per tutta l'area Eurostat, anzi anche per il Regno Unito, questo sarebbe un elemento di riflessione perché il Regno Unito non ha l'euro, ha svalutato negli ultimi anni, ma si trova in una situazione di recessione simile a quella dell'Europa continentale. I debiti pubblici stanno salendo ovunque, io vorrei che noi prendessimo atto di questi dati di realtà, una politica economica finalizzata a ridurre il debito pubblico dopo tre o quattro anni di interventi sistematici consegna debiti pubblici in aumento, quest'anno e per l'anno prossimo, questo è il dato che riguarda tutta l'area Euro. Allora io credo, poi magari possiamo discutere su che cosa fare, però almeno sarebbe utile che noi prendessimo atto che questo carico di interventi sulla finanza pubblica, questi tagli, aumenti di tasse, non stanno portando ai risultati sperati, questo ce lo possiamo dire, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per quest'anno e l'anno prossimo prevedono un aumento del debito pubblico. Ha ragione da baci a dire che per un lungo periodo siamo vissuti tanti, perché poi per tanti altri invece non è stato così, ma tanti in media sono vissuti al di sopra delle loro possibilità. Ma il problema del debito è stato, a parte la Grecia, un problema di debito privato, non di debito pubblico. La crisi scoppia per i debiti privati, io non vorrei che noi dimenticassimo questo aspetto, l'Irlanda o la Spagna avevano debiti pubblici che erano intorno al 40% del PIL, la Grecia è un caso assolutamente non rappresentativo delle ragioni della crisi. Ecco, allora io credo che noi dovremmo innanzitutto, perché altrimenti è difficile poi misurarci, perché quando devi fare manovre così pesanti, guardate che è difficile poi evitare scelte brutali. Allora io vorrei che noi ci misurassimo su questo, sulla direzione di marcia, poi certo, io credo che vada rivista la direzione di marcia, ora magari ne parliamo più tardi su come si può rivedere, vada rivista questa direzione di marcia, questa autolesionistico intervento sulla finanza pubblica, perché è autolesionistico nel senso che poi aumenta il debito pubblico, ma detto questo è evidente che in Italia bisogna intervenire per migliorare la spesa, però bisogna farlo per migliorare la spesa. L'Italia ha una spesa pro capite, corrente, se togliamo la spesa per interessi e togliamo anche le pensioni che ormai più di quello che abbiamo fatto, oltre che diciamo non so che ci è rimasto da fare, abbiamo un regime pensionistico che è di gran lunga quello più rigoroso al mondo, arriviamo a 67 anni molto prima della Germania, ma se noi togliamo la spesa per interessi e la spesa per pensioni che sono frutto di debito passato e guardiamo oggi a quella che è la spesa pro capite pubblica in Italia, noi siamo al penultimo posto in Europa, la sanità italiana pro capite costa il 25% meno della sanità della Germania o della Francia, va bene dobbiamo lasciare così? No, la risposta è no, dobbiamo riqualificare la spesa, riallocare la spesa, non continuare a tagliare la spesa, altrimenti non dobbiamo dire che stiamo intervenendo per eliminare gli sprechi, dobbiamo dire che stiamo brutalmente ridimensionando il welfare, cioè stiamo scegliendo un altro modello sociale, questo è allora l'obiettivo, discutiamolo in modo aperto però, non prendiamoci in giro, non diciamo perché quando si tagliano 30 miliardi all'anno, come è avvenuto sommando le manovre di Berlusconi, vorrei dire anche ai nostri amici e compagni delle organizzazioni sociali che prima i tagli ai servizi sociali, i tagli all'Uelfar e il governo che c'era prima li faceva in modo molto pesante, non è che prima stavamo tranquilli, ma se noi sommiamo i tagli, gli interventi fatti dalle ultime manovre di Berlusconi e quelle che abbiamo fatto poi con questo governo, arriviamo ad oltre 30 miliardi all'anno di tagli esclusi alla sanità a regioni, province e comuni e questo vuol dire rimettere in discussione il trasporto pubblico locale, vuol dire rimettere in discussione gli asili nido, vuol dire rimettere in discussione il costo delle menze scolastiche, l'assistenza agli anziani, ecco allora io credo che se dobbiamo fare la spending review o giustamente come dice Morando la revisione della spesa, parliamo di quale modello di welfare, poi noi abbiamo bisogno e chiudo su questo, di riorganizzare profondamente le macchine amministrative, tutte le amministrazioni centrali e locali, però partiamo da qua, altrimenti noi stiamo facendo un'altra operazione per raggiungere quegli obiettivi macroeconomici che dicevo prima, che però non riusciamo a raggiungere perché stiamo avvitandoci in una spirale recessiva, quindi spending review va bene, ma che sia davvero spending review, che serva a razionalizzare, a migliorare, a qualificare la spesa e non fare operazioni che diventano ogni giorno controproducenti. Grazie a Stefano, l'ha detto Cortese, ovviamente quando si decide di tagliare la spesa l'amministrazione dello Stato come ben sappiamo nella nostra Costituzione è articolata, c'è lo Stato, centrale, i ministeri, poi ci sono le regioni, le famigerate o famose province e poi ci sono i comuni. L'Italia è che ha 8100 comuni, il Piemonte ne ha 1200, il comune è da sempre storicamente l'entità di riferimento territoriale più vicina al cittadino ed è quella che più di altre, sicuramente più dei ministeri è soggetta ovviamente al polso di quella che è la situazione. Il comune eroga servizi, il comune si occupa di organizzare il trasporto pubblico locale, si occupa di organizzare la raccolta dei rifiuti, si occupa di organizzare il sistema di welfare, lo sport, il tempo libero, fa tutte queste cose. Il comune è chiaramente quindi l'ente che è più vicino al cittadino. Se c'è però una determinante di costanza nei governi degli ultimi 20 anni è che a concorrere al risanamento della finanza pubblica, qua mi si permetta di uscire dal ruolo di moderatore e di tenere il ruolo di amministratore locale, il sangue lo devono sempre dare i comuni. Se noi guardiamo la dinamica di revisione della spesa e i tagli di trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali, in particolar modo i comuni, osserviamo che l'unico dato perenne, costante, centrodestra e centrosinistra è sempre il trasferimento ai comuni. Allora io interrogo l'assessore al bilancio del comune di Milano Bruno Tabacci che ovviamente ha vissuto la politica nazionale per molto tempo e adesso fa l'assessore in una grande città ma che ha in molti casi analoghe regole a quelle di qualunque piccolo comune e chiedo a lui se questa valutazione è corretta, se in qualche modo il governo fa bene a tagliare la spesa agli enti locali oppure forse una qualche riflessione politica su come si ripartisce, questa l'abbiamo capito tutti e ce l'abbiamo tutti ben presente, necessaria spending review per evitare di fallire, forse andrebbe corretta anche rispetto a chi deve pagare nell'amministrazione dello stato. Mi spiace non poter dedicare attenzione agli aspetti politici che qui ho sentito, basta una semplice riflessione, se posto che di qui a qualche mese si vota, si vuole costruire un'alternativa, c'è da lavorare, non è in automatico e la cattiva coscienza non ce la possiamo scaricare attribuendo le colpe a un signore che da nove mesi guida il governo dell'Italia, perché se no vuol dire che siamo fuori dalla realtà. Però dovrebbe fare un discorso più complesso e mi pare che il tema specifico mi richiama una valutazione molto puntuale sulle questioni che riguardano ad esempio la finanza locale. Ora, cosa è successo in questi anni? Il mio amico Morando lo sa perfettamente che ci siamo ubriacati, qualcuno di più, qualche altro di meno, sulla retorica del federalismo fiscale. Vogliamo andare in profondità? I leghisti che cosa ci hanno raccontato? Ci hanno raccontato un sacco di balle e abbiamo impostato una politica che era fondata non su una revisione della struttura della finanza locale ma su una battaglia che era assolutamente periferica, cioè tentare di smontare la struttura fiscale centrale attribuendo agli enti locali delle aliquote invece di andare a revisionare profondamente con il superamento della spesa storica. La spesa storica è una scelta di totale irresponsabilità. Chi ha fatto l'amministratore negli anni 70 prima che intervenisse la riforma di Sentini e poi i decreti stammati sa che la finanza locale era fondata sull'imposto di famiglia e che cos'era l'imposto di famiglia? Era una lettura della ricchezza locale. Tra l'altro c'era una sapienza fiscale dei comuni e c'erano delle macchine comunali che erano orientate a stabilire con la cittadinanza dei rapporti molto seri in termini fiscali. Il 50% di quei bilanci era dato dall'imposto di famiglia. Ora guardate adesso, fate un'analisi della struttura di un bilancio locale e vedete quanta finanza derivata c'è. Ora è evidente che se noi affidiamo il meccanismo nelle mani del governo centrale il taglio della spesa diventa l'operazione più facile. Avremmo dovuto pensare una rivoluzione in materia di finanza locale e invece inseguendo Bossi che doveva affiggere un manifesto che poi lo ha portato alla rovina perché c'era una distanza siderale tra le cose che diceva e quelle che in realtà praticavano, invece di affrontare il nodo della struttura della finanza locale rapportato alla finanza pubblica complessiva e ci siamo intestarditi su delle cose sbagliate. Avevamo detto in Parlamento, ma prima di andare dentro il meccanismo del federalismo fiscale perché non definiamo un codice delle autonomie che fissi le regole del chi fa che cosa. Sembrava una cosa molto seria, no? Invece ancora stiamo a discutere delle province. Vedete come siamo malmessi come ragionamento intellettuale. È evidente che con l'introduzione delle regioni da qualche decennio si pone il problema di che cosa fare dell'ente intermedio. Far finta che il problema non ci sia è sbagliato. Allora quella impostazione ahimè ha portato alle derive attuali. Però guardate che le mentalità anche rispetto al modo di amministrare localmente bisogna cominciare a cambiarle. Se noi facciamo il bilancio di un comune, non importa se è grande o piccolo, da come si parte? Si parte dal consuntivo dell'anno precedente e secondo me è un modo sbagliato. Un giorno o l'altro dovremo voltare pagina. Quello che diceva Morando che va esaminato ogni euro di spesa è la chiave interpretativa dell'analisi della spesa e della conseguente revisione. Se invece noi pensiamo che i capi di partimento si aspettano il cento che c'era l'anno prima in più o in meno qualcosa, vuol dire che non si pone a verifica quel cento che hanno pienamente speso a consuntivo l'anno precedente. È chiaro come concetto? Dove sta scritto che le cento lire che dedichiamo per la cultura sono indirizzate nella maniera giusta? Siamo sicuri? Io direi che avere un po' di apprezzamento critico sarebbe forse necessario perché è evidente che non tutte le spese possono andare nella stessa direzione. Ad esempio c'era un comune della mia regione che finché andavano molto bene le azioni dell'A2A e c'erano dei dividendi scontati avevano pensato un servizio per cui quando c'era un anziano sopra i 65 anni che aveva bisogno di fare una visita gli pagavano il taxi che l'andava a prendere a casa. Ora io ho più di 65 anni quindi anche io avrei avuto diritto al taxi che veniva a casa a prendermi no? Cioè non c'è la valutazione dell'ISEE cioè dell'indicatore della condizione economica no? Che dovrebbe essere la cosa minima. Non è che possiamo dare i servizi a prescindere da chi li diamo, da chi li utilizza. Non è possibile che si dà l'asilo gratis e poi il papà accompagna la bambina in Porsche. E beh questo è accaduto a Milano non a Caltanissetta e non si può fare, non può essere così. Allora questo governo tra l'altro ha introdotto per la prima volta dei meccanismi sull'ISEE che ci obbligano a rovistare pienamente e noi stiamo tentando di farlo ma è un'azione complicata. Ad esempio già cominciare a vedere d'accordo con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza quanti sono i milanesi che hanno residenze fittizie all'estero? Forse non sarebbe mica una cosa sbagliata. Ci sono stati tanti servizi giornalistici che hanno detto che questo è un fenomeno diffuso e sembra che i trasfrontalieri tra noi e la Svizzera insomma ci siano passaggi molto complicati. Ora guardate è uscito nei giorni scorsi e mi ha fatto un po' sorridere perché poiché sono stato in questi anni un osservatore abbastanza critico della struttura e della dimensione del sommerso in Italia ho visto che l'Eurispes l'altro giorno ha scritto che c'è un sommerso al 35% che nelle condizioni date vuol dire che siamo sopra la Grecia. Comunque se anche fosse il 30% vuol dire che qui siamo in rotta di collisione con l'equilibrio civico perché se ogni 7, ogni 10 euro, 7 sono in bianco e 3 sono in nero vuol dire che ogni 4 esercizi scarsi c'è un intero pil che finisce nell'area grigia della ricchezza che poi assume forma che possono essere case, immobili, comunque di consumo, assume forma, c'è, non è che non c'è e c'è ma non è in regola col fisco, c'è ma non appare rispetto al dovere fiscale. Ora i comuni devono riappropriarsi di questo ruolo, è vero che con gli ultimi provvedimenti i recuperi fiscali vanno a vantaggio dei comuni ma le macchine vanno tutte ristrutturate sul punto specifico, non c'è più una cultura del lavoro, del contrasto fiscale nelle amministrazioni locali perché da anni il bilancio locale era costruito sulla finanza derivata non su quello che veniva richiesto ai propri concittadini, quindi ce n'è un bel po' di cose da fare e non ce la possiamo cavare con le battute sul governo Monti perché se no non ci daranno in mano la carta di provare che si può governare bene questo paese, perché io sono convinto che questo è possibile farlo, però ci vuole un grande rigore morale per fare questo e chi fa politica e chi amministra deve cominciare a mettere questo atteggiamento al primo posto. Non è tanto il problema di fare della retorica sulle auto blu, sulle scorte o sulle auto grigie, ma è chiaro che bisogna cambiare registro e chi guida o amministra una città, grande o piccola che sia, o guida o amministra un paese deve porsi queste questioni che sono di stile come questioni di sostanza, perché chi è più in alto, chi ha più responsabilità, più esempio deve dare, deve essere un esempio per i propri concittadini, deve essere visibile e riconoscibile come una persona seria, una persona per bene. ora, per questo in Europa quando parla il professor Monti lo stanno ad ascoltare, c'è stata perfino la polemica sulle sue vacanze a St. Moritz, siamo ridicoli, tra l'altro con tutta l'esperienza precedente, ma abbiamo il coraggio di fare un confronto, ma di cosa stiamo parlando? allora, chi verrà dopo dovrà essere ancora più trasparente, non meno trasparente, non è che si deve tornare alle logiche di arcore, bisognerà tornare a qualche cosa di serio e allora penso che chi amministra a livello comunale una grande città, una piccola città, avrà il dovere poi di dialogare con i suoi concittadini, perché l'obiettivo finale è quello di rendere conto di un bilancio trasparente, c'è un bilancio che sia leggibile, su cui ci sia effettivamente la rendicontabilità delle cose che si fanno, oggi c'è internet e quindi ognuno può andare a leggere, può andare a vedere, ma va scritto in maniera tale che si possa effettivamente leggere, purtroppo la struttura della finanza pubblica, penso agli assetti delle regioni statuto speciale, voi sapete che i dati del bilancio delle regioni statuto speciali non sono combaciabili con quelli dell'amministrazione centrale e quindi non si può fare un consolidato pieno, perché le voci sono diverse, però la Lega che doveva portare ordine a queste cose si è guardato bene da affrontare un nodo di questa natura che invece c'è ed è strategico e non riguarda solo la Sicilia e la Sardegna, quindi abbiamo materiale per lavorare, insomma noi nel nostro piccolo e non si può, ed ho finito, inseguire la mattana del rotturo del patto di stabilità, perché il patto di stabilità ancorché eccessivamente rigido è stata una regola che ci ha costretto comunque a fare i conti con le cose, perché se no siamo sulla posizione di Grillo, il quale dice sapete com'è il debito pubblico italiano, per il 50% è un debito sottoscritto dagli stranieri, facciamo come gli argentini, gli diamo una stangata e abbiamo risolto il problema, beh ma io in un paese così non ci sto bene, perché mio padre mi insegnava che i debiti andavano pagati, non dormiva neanche di notte, per questa ragione, quindi credo che uno Stato abbia il dovere di dare e di esigere rispetto, per fare questo non si possono fare mattane, si può cambiare il patto di stabilità, ma finché c'è va rispettato, perché dobbiamo dare l'ordine al ragioniere capo del comune che faccia atti che sono in contrasto con la legge, ma chi può assumere una posizione di questa natura, non esiste, e poiché, no ho capito, ma c'erano delle ragioni particolari che hanno portato voi all'ortura del patto, le conosco perfettamente, non era riferito a un giudizio su Torino, era riferito però al giudizio di una scivolata del Lanci che nelle settimane scorse si era inventato una manfrina di questo genere, il patto si cambia, non lo si contesta, chi amministra applica la legge, la attua, e se non hai il coraggio di fare questo cambi mestiere, perché noi non siamo lì, per fare né gli imbroglioni né gli apprendisti stegoni, ma per amministrare con serietà le città che ci competono. Io però devo cogliere lo spunto perché è evidente che siccome è noto ai torinesi che Torino è fuori dal patto di stabilità dal 31-12-2011, le ragioni sono anche tecniche, mi rispondo con una battuta all'onorevole Tabacci, a condizione che le regole siano uguali per tutti, per Torino, per Roma, per Catania e per tutte le città a cui, come dire, perché io voglio vivere in un paese in cui i debiti si pagano e le leggi si rispettano, però la legge deve essere uguale per tutti, non è che qui c'è qualche comune a cui è consentito sempre fare tutto, legacy Roma, legacy Catania, tutte città a cui lo Stato centrale ha consentito di non derogare ai parametri di legge con trasferimenti straordinari e ad altri comuni che invece hanno investito si richiede rigore. Noi ci stiamo a rigore, purché sia a rigore effettivamente per tutti, mi si passi la battuta ma credo fosse veramente dovuta. Sempre nella home page del governo dove si parla di spending review, si dice che la spending review è la revisione della spesa che a differenza del passato deve essere fatta con altri criteri, nei criteri del passato erano la spesa storica e i cosiddetti tagli lineari, cioè tagliamo del 10% tutto, sanità, ambiente, difesa a prescindere. Allora io chiedo al senatore Morando se questa declaratoria che come dire nella home page del governo si assume come obiettivo e come criterio è stata poi di fatto seguita, perché il carne del principio della revisione della spesa è analizzarla alla spesa. Allora io chiedo al senatore Morando che segue le politiche di bilancio per il PD al Senato se a suo modo di vedere effettivamente questo obiettivo che è un obiettivo che si è dato il governo Monti e che è un obiettivo molto ambizioso perché vuol dire entrare nel merito di come vengono spesi gli euro, a suo modo di vedere è stato poi come dire portato avanti con analogo rigore. La risposta alla domanda è sì in larga misura, non pienamente perché una componente di taglio lineare nel provvedimento che chiamiamo revisione della spesa c'è, ma la componente prevalente è di revisione della spesa vera. Naturalmente però bisogna che ci mettiamo d'accordo sul punto essenziale, per essere vera revisione della spesa deve essere un processo che si ripropone sistematicamente, non so a che distanza tenerlo e quindi sono in difficoltà, che continua nel tempo e che interessa tutti i più piccoli segmenti della pubblica amministrazione, cui bisogna dare obiettivi di efficienza che debbano essere definiti non in astratto ma in rapporto alle, di solito si dice performance, ma insomma si può dire anche questo in italiano, ai migliori comportamenti, alle migliori pratiche che in amministrazioni comparabili si possono registrare in Italia o fuori dall'Italia, in Europa per esempio. Da questo punto di vista il principio fondamentale della comparazione tra spesa e risultati tra comuni in situazioni analoghe, province in situazioni analoghe, regioni in situazioni analoghe, deve consentire, almeno sotto il profilo teorico pacificamente consente, di arrivare a definire concretamente dove ci sia spesa in eccesso in rapporto ai risultati o dove i risultati siano troppo scarsi in rapporto alla spesa che si realizza. Naturalmente questo processo deve essere organizzato in modo tale che tutti effettivamente vi partecipino. Io ho l'impressione che un numero troppo elevato, a me piace parlare chiaro, troppo elevato di amministratori locali abbia preso diciamo cappello sul tema della revisione della spesa dicendo to cure questi sono tagli lineari esattamente come quelli di Tremonti o addirittura peggiori di quelli di Tremonti e quindi noi li contrastiamo, punto e basta. Temo che questo comportamento non sia quello giusto per i riformisti e in ogni caso non è quello coerente con il contenuto della legge. Dice, prendo il caso più difficile di cui parlare qui questa sera, quello della revisione della spesa a proposito di enti locali di cui avete già parlato in termini, in particolare le cose che ha detto Tabacci, in termini che io sostanzialmente condivido. E prendiamo il caso ancora più difficile, quello delle province, perché rispetto al contenuto originario del provvedimento revisione della spesa, sui comuni alla fine una qualche correzione significativa è stata introdotta, sulle province invece no. E non c'è dubbio quindi che l'ente provincia, al di là del giudizio che noi diamo, oggi c'è e quindi deve essere considerato come un soggetto istituzionale, tra l'altro dotato di una legittimazione democratica assolutamente straordinaria. Pensate quanti voti ci vogliono per diventare presidente della provincia di Milano, di Torino, eccetera, attraverso l'elezione diretta. Quindi istituzioni presiedute da persone che hanno una legittimazione democratica straordinaria e debbono essere messe in grado di partecipare a questo processo con piena consapevolezza. Cosa dice la norma che secondo me non stiamo interpretando correttamente, né a livello nazionale, dando troppo per scontato che alla fine a un taglio lineare si deve arrivare, né a livello locale. Dice, esaminata molto in generale la spesa delle province, sto facendo il caso delle province, si vede che in particolare per l'acquisto di beni e servizi la spesa delle diverse province italiane segnala disparità enormi tra province che sono anche istituzioni comparabili per numero di abitanti, per dimensioni del territorio e così via. Questa divaricazione di spesa segnala problemi di eccesso di spesa, di eccedenza. Non si capisce perché se la provincia X, che ha dimensioni e caratteristiche uguali alla provincia Y, ce la fa a realizzare servizi dignitosi nel settore della mobilità, dei trasporti, della viabilità per i suoi concittadini spendendo 100, non si capisce perché la provincia di fianco spenda 120. O meglio, si capisce, ma questo segnala che come minimo quella che spende 120 deve giustificare come mai. Cosa dice la norma? Dice di qui, di qui era a luglio, di qui a settembre, noi determiniamo un obiettivo di riduzione della spesa per il comparto province nel suo complesso. La localizzazione specifica per ogni istituzione della specifica riduzione di spesa che concorre alla realizzazione dell'obiettivo generale deve avvenire sulla base di un lavoro di analisi della spesa da sviluppare nel corso delle settimane e dei mesi prossimi in maniera tale che entro ottobre, entro la fine di settembre, scusate, la conferenza Stato Autonomie Locali definisca la localizzazione del risparmio di spesa in rapporto all'analisi della spesa stessa che nel frattempo avremo eseguito. Certo, dice la norma, se questa operazione di localizzazione del risparmio in ogni singola provincia la conferenza Stato Autonomie non la fa, alla fine procede lo Stato col meccanismo del taglio lineare. Il taglio lineare non è la disposizione, è la conseguenza di un fatto negativo, cioè l'incapacità di collocare il risparmio. Ora, perché io dico non vedo un lavoro di questo tipo? Vedo una contestazione e in parte la capisco perché l'analisi di partenza, quella su quelle eccedenze di spesa che ho cercato di descrivere, è approssimativa. è un lavoro fatto dal commissario Bondi sulla spesa per acquisto di beni e servizi certamente approssimativo. Cosa io vedo come compito dei riformisti? Lasciamo perdere la polemica su cosa è stato. Io vedo adesso, in queste settimane e in tutti i mesi e gli anni che verranno, vedo gli amministratori impegnati a fare la loro provincia, il loro comune, la comparazione in ogni servizio, in ogni segmento dei costi e dei risultati ottenuti, assumendo a riferimento i risultati migliori, chi ottiene di più spendendo di meno e autodefinendosi degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa che ci consentano di uscire da una situazione drammatica nella quale non possiamo proseguire. Gli amministratori locali stanno annegando dentro questa riduzione lineare dei trasferimenti, l'autonomia finanziaria vera non arriva perché il federalismo fiscale per ora è rimasto appunto alla dimensione della propaganda, il risultato è che abbiamo dequalificazione dei servizi, demoralizzazione degli amministratori locali, incazzatura sacrosanta dei cittadini che pagano di più e ottengono di meno dalla pubblica amministrazione e i primi riferimenti dei cittadini sono le amministrazioni locali, perché? Perché noi come ceto politico in generale non crediamo alla possibilità di cambiare, perché questa è la verità, noi abbiamo troppo scarsa la possibilità che si può fare, si può spendere di meno ma soprattutto si può spendere meglio, come assumendo a riferimento quello che in quel settore di cui stiamo parlando, quella istituzione, quell'ufficio, quel comune, il risultato lo ottiene uguale al nostro, addirittura migliore del nostro spendendo di meno. Non sono, io lo so che c'è una parte di noi che sono tutte balle, no? Sono tutte balle, non esiste, l'abbiamo già fatto, sto lavoro non è vero. L'altro giorno ho visto i dati elaborati dalla commissione incaricata di fare questa operazione, che qualche passo in avanti lo sta facendo davvero, sulla servizio di sicurezza fornito dalla polizia urbana. Vi garantisco, esaminare quei dati ci sono comuni identici per dimensione, collocati nella stessa realtà economico-sociale, in cui uno spende il doppio dell'altro per assicurare il servizio di sicurezza urbana, la polizia municipale. Ora intendiamoci, vedere che uno spende il doppio dell'altro può ancora non voler dire niente dal punto di vista dell'intervento sulla spesa, a condizione che il sindaco del comune che spende il doppio sia in grado di spiegare ai suoi cittadini che ha fatto questa scelta, che i suoi soldi invece di spenderli per gli asili nido li sta spendendo nello specifico per quel tipo di attività a cui dà priorità. È una scelta politica assolutamente legittima, assolutamente legittima, intendiamoci bene, ma non può essere data dalla spesa storica, deve essere data da una scelta politica. La fai, spendi il doppio degli altri per assicurare un servizio identico, te ne assumi le responsabilità in modo tale che sia oggetto di contesa politica perché la battaglia democratica tra il sindaco A e il sindaco B deve assumere a riferimento dove prendi i soldi e sappiamo che i comuni hanno scarsa capacità e autonomia impositiva, non sei responsabile tendenzialmente o poco responsabile di dove prendere i soldi, tanto di più devi essere responsabile di come li spendi. E questo lavoro, questo lavoro, io non lo vedo sviluppato. Temo che arriveremo alla fine del prossimo mese con la conferenza Stato-Autonomie che dirà che non è possibile fare la localizzazione dei risparmi di spesa ente per ente. Temo che questo porterà a dei tagli lineari, ma non è detto che si debba fare così, anzi il detto della legge è esattamente opposto. Il governo a sua volta ha dei limiti su questo versante perché fatta quella scelta che io ho votato, me ne sono preso le responsabilità, non vado in giro per il Paese a dire che è una scelta sbagliata perché se facessi questo sarei un qua-quara-qua che non può discutere di nulla da nessuna parte. Io l'ho votata e io ne rispondo di quella norma. Ma il governo a sua volta non ha lavorato per implementare ulteriormente quei dati, per migliorare, perché si può migliorare l'analisi di partenza che ha fatto il commissario Bondi e cercare di fornire al sistema delle autonomie locali una base informativa sufficiente per spronarlo a fare meglio e a fare di più. Abbiamo situazioni che gridano vendetta cospetto dei santi da questo punto di vista. non vogliamo più parlare delle autonomie locali, parliamo delle prefetture. No, le prefetture, fino a provo a contare in Italia, sono le prefetture, fanno tutte lo stesso lavoro. Fanno lo stesso lavoro a Milano, come a Torino, come a Genova, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dice, è difficile fare la revisione della spesa. Bene, questo esempio consente di dire che nel caso delle prefetture la revisione della spesa fondamentale la può fare un bambino di terza elementare. Perché terza elementare? Se prendete la spesa delle prefetture, scusate, il numero del personale delle prefetture, per ogni 10.000 abitanti e fate una graduatoria. Dalla prima prefettura, quella cioè che ha il rapporto personale 10.000 abitanti più piccolo, via 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 e fate una graduatoria con tutte le 100 quante sono prefetture d'Italia, una per provincia, fino a quella che ha il rapporto più negativo, cioè più grande. o dividere, è facile, no? Operazione. Se fate questa operazione vedete che compare, primo in classifica, la prefettura di Milano, 0,46, qui mi ricordo con precisione il dato, 0,46 persone dipendenti della prefettura ogni 10.000 abitanti. È chiaro? finisce con, non mi ricordo la provincia, la prefettura, ma finisce con prefettura il cui rapporto è 3,5. 0,46 è piccolo, 3,5 è piccolo, ma 3,5 è malcontato 7 volte, 8 volte, vero? E quindi che cosa segnala? Quello dato elementare, che ci sono delle prefetture che hanno troppo personale in rapporto ai servizi che devono garantire. Voi mi direte, ma nella cittadina piccola, nella provincia piccola, è chiaro, il lavoro elementare di base è uguale dappertutto, è evidente che il rapporto, certo, invece di essere come Milano, nella provincia più piccola di 400-500.000 abitanti, ovviamente il rapporto sarà doppio, ma guardate che arrivare a 8 volte è veramente dura, segnala qualche problema di fondo. Cosa bisogna fare? Anche qui, non dico terza elementare, ma quinta è sufficiente, si prendono i prefetti di quelli che stanno fuori e ho terminato e gli si dice, senti, non domani mattina, no, non domani mattina, entro tre anni ho il rapporto tuo personale 10.000 abitanti, va dentro lo schema che da Milano in giù propone i migliori comportamenti, oppure nessuno ti licenzia, ma tu non sei un dirigente, non sei un prefetto, sei un impiegato dello Stato che deve essere diretto da qualcun altro perché non sei capace di fare il tuo lavoro. Nessun licenziamento, ma sia chiaro, il prefetto non lo puoi fare. Ora è evidente che questo schema di ragionamento riferito in particolare ai dirigenti è facile da fare qua, ma difficile quando comincia a fare al Ministero dell'Interno la riunione dei prefetti. È dura e gli esempi possono essere molto più hard di cui qui adesso sto ragionando. Ci fermiamo? Se ci fermiamo, perché è troppo difficile, non lamentiamoci se bisogna fare i tagli lineari, perché alla fine a un risultato devi arrivare e se non ci arrivi attraverso la selezione in rapporto a costi e servizio fornito, finisci per arrivarci con i tagli lineari. Purtroppo però con i tagli lineari non ci arrivi al risultato, perché sappiamo che i tagli lineari alla fine sono molto simili a dei rinvii di spesa e non a dei veri risparmi. Quindi non abbiamo alternativa, vogliamo cambiare l'Italia? Per cambiare l'Italia bisogna cambiare la pubblica amministrazione. Noi siamo al mondo per questo, se siamo capaci di fare una seria revisione della spesa facciamo metà dell'opera, il resto naturalmente sono tante altre cose di cui qui non posso parlare. Direi che i temi sono veramente molti, il compito mio è quello di cercare di raccordarli tra di loro. E allora parto dall'ultima affermazione del senatore Morando e faccio una domanda a Gianni Cortese che vive nella sua postazione di leader sindacale questo territorio con tutte le emergenze e la crisi che questo territorio sta vivendo in questo modo. Bene, abbiamo capito quali sono gli obiettivi. Abbiamo capito che sicuramente occorre procedere a una profonda revisione culturale di come si è speso il denaro pubblico in questi anni. Guardate, un conto è dirla a una festa di partito, un altro conto è farlo in un'amministrazione. L'amministrazione comunale di Torino dovrà entro il 31-12-2012 tagliare 14 milioni di euro in spesa corrente rispetto a un bilancio votato il 20 luglio e dovrà tagliarne 54 milioni sul 2013. sulla spesa corrente che è qualche centinaio di milioni, ma il problema non è tanto quanto è. Il problema è che noi abbiamo già fatto un bilancio lacrime e sangue, ma non è purtroppo il tema di stasera di cosa vorrà dire, ma ce ne accorgeremo credo tra qualche giorno di che cosa vorrà dire nel concreto tagliare 14 milioni di euro in spesa corrente. Allora io faccio una domanda, mentre noi facciamo questa revisione culturale proviamo a immaginare un progetto di guida per il paese e a convincere gli italiani a dare fiducia al futuro governo che speriamo, ovviamente lavoriamo per questo, vedrà il PD impegnato in prima persona. Ma noi ci arriviamo vivi a quel momento, di questo passo come arriva l'Italia a quell'appuntamento? Ma l'Italia credo che sia ampiamente boccheggiante, che poi sia in buona tra virgolette compagnia come è stato ricordato dagli illustri ospiti, ci consola ma fino a un certo punto. Il problema vero di questo paese è che se è vero che negli ultimi anni in presenza della crisi il debito europeo è cresciuto, c'è da dire con molta onestà che gli altri paesi hanno messo in atto qualche politica per lo sviluppo. Il nostro paese non ha fatto nulla per lo sviluppo. Il debito era cresciuto prima ma gli interventi volti a dissanguare il paese, pensioni, imu, addizionali locali eccetera, non hanno migliorato neanche lo stato dei conti. E' chiaro che si potrebbe dire pensa un po' se non ci fossero stati quegli interventi, ma la cosa di cui difetta questo paese credo che sia sotto gli occhi di tutti. Il problema vero è abbinare a politiche di austerità e di bilancio politiche di sviluppo e siccome lo sviluppo non è una categoria dello spirito, ma è una categoria che consta di investimenti e ripresa dei consumi, allora sul piano degli investimenti, io credo che noi dobbiamo essere anche onesti, non si può spacciare come piano sviluppo quello che ha presentato passere a giugno. Cioè noi abbiamo parlato di strumenti finanziari allegri, di derivati eccetera, ma andare a scrivere che un investimento di un miliardo in un triennio ha un effetto leva di 80 volte fa ridere i polli, fa ridere veramente i polli. Questo significa prendere in giro le persone. Allora sappiamo che la situazione è difficile e ognuno deve fare la propria parte, ma noi abbiamo l'obbligo di parlare chiaramente al Paese e abbiamo l'obbligo di intervenire nell'unico punto che può tornare a dare un po' di ossigeno. Noi abbiamo avuto negli ultimi sette anni una crescita ulteriore di quello che il lavoro dipendente e pensionati ha dato all'IRPEF di altri tre punti. Oggi i lavoratori dipendenti e pensionati pagano l'80% di tutta l'IRPEF. Si vuole prendere in considerazione la possibilità di alleviare con detrazioni fiscali mirate il carico che è ceso queste due categorie? Allora è chiaro che c'è un problema di finanziamento, qui non siamo dei pazzi, lo sappiamo bene, ne ha parlato diffusamente l'assessore di Milano, c'è un problema che per fortuna ha visto una recrudescenza alla lotta all'evasione e all'erosione fiscale, c'è una questione di lotta alla malavita di cui si parla tutti i giorni che alligna molto anche nell'ambito della pubblica amministrazione, c'è un problema di trasferimento anche di immobili e di proprietà statali che non servono, che non sono funzionali alle attività da produrre. C'è un problema, diciamocelo anche, di costi della politica che sono insopportabili per questo Paese. Una cosa sono i costi della democrazia, altro discorso è mantenere un milione di persone che vivono di politica. Questo non ce lo possiamo più permettere. Per cui 145 mila eletti in questo Paese sono troppi. Bisogna riordinare i livelli istituzionali, bisogna nell'ambito della pubblica amministrazione tagliare le consulenze inutili, bisogna mettere in piedi la cultura della valutazione. Io sono perfettamente d'accordo. Io ho fatto per vent'anni sindacalista nel lavoro pubblico, mi trovavo un grandissimo imbarazzo quando definivamo i criteri per valutare la produttività, quella collettiva legata al raggiungimento degli obiettivi di unità operativa, quella individuale all'apporto che veniva dato dal singolo e molti dirigenti trovavano comodissimo dare il 100% a tutti. Manca anche questa cultura della valutazione che non esiste. Allora dobbiamo avere il coraggio di dire che i tagli lineari non servono, ma se aspettiamo che ognuno si autodenunci, noi non ne verremo mai fuori. Guardate però che la situazione sta cambiando e sta cambiando parecchio. Intanto i lavoratori pubblici dal 2009 non rinnovano più il contratto ed è il contributo che stanno dando dal loro punto di vista alla crisi. Proprio in questi giorni sono usciti i dati dell'osservatorio regionale sul lavoro che dicono che dieci anni fa c'erano a concorso 2000 posti, quest'anno sono stati 200 per effetto di tutti i provvedimenti sul rinnovo del turnover e quant'altro. Il problema però è la valutazione di merito, cioè come si fa a dichiarare che nel pubblico impiego ci sono 24.000 esuberi senza dimostrarli? Potrebbero essere anche di più, ma tu li devi dimostrare. Devi adottare una metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro e delle attività e su quelli ci si confronta col sindacato. Il sindacato non può essere chiamato solo a gestire la mobilità e gli esuberi, non dimostrati. Questa roba non esiste. Io sono arci convinto che ci sia la possibilità sicuramente di intervenire. Parlava giustamente prima il senatore Morgando dei rapporti che esistono, Morando scusa, sulle prefetture, ma pensate solo ai dipendenti di alcune regioni, Lombardia, Piemonte rispetto alla Sicilia per esempio. Però anche qui chi decide le assunzioni? Il lavoratore stesso medesimo? Ci sono delle responsabilità che vanno esaminate e che bisogna sicuramente affrontare. Noi come sindacato siamo a disposizione, è una balla quella che vogliamo sottrarci al confronto. Quello che non possiamo accettare è che si agisca con i tagli lineari, andando magari a incidere laddove ci sono grossi problemi a mandare avanti le attività, penso ad alcuni reparti della sanità, eccetera, eccetera, e invece praticare dei tagli che sono ampiamente sopportabili in altri settori. Quindi il confronto deve essere un confronto di merito e più faticoso, perché è più facile sicuramente dire tagliamo a tutti nella stessa misura, ma è il modo più serio per affrontare i problemi della pubblica amministrazione. Il terzo obiettivo dichiarato della spending review del governo è quello di liberare risorse per lo sviluppo. Allora io parto da una considerazione. Qualche anno fa, una quindicina anni fa, la Germania decise di investire massicciamente risorse economiche nel campo delle energie rinnovabili. E furono dati importanti contributi a fondo perduto, peraltro in alcuni casi violando o comunque avvicinandosi alla violazione delle normative comunitarie sugli aiuti di Stato, per stimolare la nascita di imprese specifiche in Germania. Oggi la Germania, con quel tipo di politica industriale e di politica economica, è uno dei leader internazionali in questo settore. Allora io chiedo a Stefano Fassina. È evidente che noi abbiamo capito che non può esserci settore che non fa quanto veniva detto poc'anzi, ossia un esame critico, autocritico, di come spende i soldi, un'analisi puntuale dei livelli di efficienza ed efficacia del servizio che viene reso, è una decisione in ordine a dove mettere il taglio. Ma io chiedo a lui, quali sono a modo di vedere nostro, del PD, i settori su cui, ci sarà un qualche settore in Italia su cui invece in prospettiva noi dobbiamo concentrare le risorse per lo sviluppo. Allora la mia domanda è un po' questa. Noi questo lavoro lo facciamo dappertutto. Alla fine di questo lavoro abbiamo contenuto la spesa pubblica, abbiamo contribuito a raggiungere il patto di bilancio, però io sto facendo fatica a capire dove il sistema produttivo, il sistema paese sta andando, quali sono i settori su cui l'Italia punta. Allora lo chiedo a te Stefano, che come dire dal tuo osservatorio sicuramente hai una prospettiva più ampia, a tuo modo di vedere questo governo e in generale il PD si sta ponendo questo problema, sta decidendo dove strategicamente portare lo sviluppo del paese nei prossimi anni? Ma ce lo stiamo ponendo poco questo problema, siamo in una situazione emergenziale che ci tiene concentrati su obiettivi di breve periodo e questo discorso strategico è debole, per quanto mi riguarda, cioè lo facciamo poco. L'avevamo incominciato a fare quando Bersani era ministro dello sviluppo economico, come ricordate, insieme al governo Prodi ovviamente, aveva tirato fuori il programma di politica industriale Industria 2015 dove venivano individuati alcuni settori ritenuti strategici, ritenuti di grande potenzialità di crescita, dall'efficienza energetica alle biotecnologie, alle tecnologie della cultura. Io credo che questo discorso vada ripreso e vada portato avanti, perché non c'è dubbio che noi in Europa, più in generale, non stiamo attraversando una fase di crisi, una lunga congiuntura negativa. È evidente che noi siamo dentro una fase di transizione, di cambiamento profondo, di cambiamento profondo anche della divisione internazionale del lavoro e non possiamo pensare semplicemente di resistere con qualche ammortizzatore sociale, magari sperando che in qualche modo venga qualche sostegno dalle risorse pubbliche. Noi abbiamo bisogno di capire dove vogliamo posizionarci. Questo è un discorso che credo possa essere fatto compiutamente a livello di Araeuro. A me pare che noi continuiamo a sottovalutare la rilevanza delle interazioni e delle interdipendenze economiche dell'area della moneta unica. Tutta una serie di obiettivi e di strumenti li possiamo mettere in campo in quanto giochiamo sull'area Euro. Questo rimane un punto decisivo, è un punto irrinunciabile rispetto al quale noi in Italia, ma noi nell'area Euro, dedichiamo poca attenzione, poca attenzione all'economia reale e un'enfasi ossessiva sulla finanza pubblica che ci sta portando in un circolo vizioso. Io insisto su questo. Io ritengo che il debito pubblico vada ridotto, vada ridotto in modo drastico. Segnalo che lungo la strada che stiamo percorrendo raggiungiamo l'obiettivo opposto di aumento del debito pubblico, non solo noi in Italia. Ora non è una critica al governo Monti, magari fosse un problema di governo Monti. Noi non avremmo potuto fare cose radicalmente diverse se fossimo stati al governo, perché i vincoli sono stringenti. segnalo che è un problema, è un problema per la sopravvivenza dell'Euro, per la sopravvivenza politica oltre che economica. Guardate, non sottovalutiamo la capacità di resistenza politica dell'Euro, cioè il fatto che le spinte anti-Euro prendono sempre più piede perché l'Europa viene presentata e viene percepita purtroppo più come un problema che come la soluzione è un problema. Se noi non riportiamo una prospettiva di crescita, una prospettiva di lavoro, soprattutto per le generazioni più giovani, noi rischiamo di alimentare la demagogia anti-europeista e la resistenza politica dell'Europa non è meno preoccupante della resistenza finanziaria. Ecco, quindi a me pare che su questa rotta noi ci dobbiamo incamminare. Dentro questo quadro, e chiudo, io riprendo una riflessione, sono assolutamente d'accordo con le affermazioni e gli obiettivi di buonsenso che hanno ricordato sia da Bacci che Morando. Noi dobbiamo fare quelle cose là, dobbiamo fare la revisione puntuale di ogni singolo programma, dobbiamo appunto rimettere in discussione anche il livello e la quantità dell'occupazione pubblica se necessario. Non è questo che mi spaventa, non sono sicuro che noi stiamo facendo questo ora, cioè che la dimensione del problema che dobbiamo affrontare sia tale per cui noi la possiamo gestire con quella razionalizzazione. Io non credo che tutti i nostri amministratori siano conservatori o siano incapaci. Ci saranno sicuramente, nostro intendo italiani, non solo quelli del Partito Democratico, ci sarà sicuramente una parte di loro che resiste, abituata a routine clientelari, di inefficienza e certamente questo va aggredito. Però se tu metti insieme 20 presidenti della regione e gli dai un obiettivo sulla sanità che è un obiettivo impossibile e metti come contromisura quella che poi fa il taglio lineare, non puoi aspettarti che quelli raggiungano un obiettivo impossibile e poi è colpa loro se scatta il taglio lineare perché io ritengo che su una serie di punti gli obiettivi siano obiettivi impossibili se vogliamo mantenere un certo perimetro di servizi pubblici perché se invece diciamo che ridimensioniamo il perimetro di servizi pubblici, pubblici facciamo un altro discorso ma allora discutiamo apertamente che cosa possiamo fare e che cosa non possiamo fare, non nascondiamo dietro il paravento dell'efficienza. Ora io sono consapevole che fare questi discorsi è complicato perché non c'è, diciamo che prima viene l'attacco ai politici, subito dopo c'è quello alla spesa pubblica in termini di capacità di suscitare consenso. Non so chi di voi nei giorni scorsi ha seguito la convention del partito repubblicano negli Stati Uniti quella che ha incoronato Romney, ma là si susseguivano sul palco di Tampa una serie di interventi dove rispetto a quello che c'era nei Stati Uniti di welfare aggredivano Obama in quanto socialista perché aveva garantito un minimo di sanità in più e venivano giù gli applausi. Allora io credo che noi dobbiamo fare un profondo intervento di riqualificazione della spesa pubblica. La scuola pubblica, se prendiamo questo esempio, la dobbiamo aggiungere risorse a proposito di settori del futuro che noi vogliamo sviluppare per avere una prospettiva. Nella scuola pubblica la nostra qualità dell'insegnamento sta rapidamente e radicalmente peggiorando, non perché gli insegnanti siano diventati tutti fannulloni, ma perché non ci sono le condizioni, in tante realtà non ci sono le condizioni minimi. Allora se vogliamo parlare di riqualificazione radicale quanto vogliamo della spesa, assolutamente d'accordo fino in fondo. Noi non abbiamo fatto un problema di esuberi nel pubblico impiego, ma cominciamo dalla testa, dobbiamo dire quale funzioni chiudiamo, quale potenziamo, quale ridimensioniamo e poi facciamo il totale di quelli che vanno in esubero, possono essere pure di più di quelli che vengono previsti, ma su quel dato là noi non abbiamo fatto un'operazione di spending review, ma abbiamo fatto un'operazione meramente quantitativa. Io la voglio fare la spending review, la voglio fare fino in fondo, voglio partire però dalla riorganizzazione delle macchine, le macchine amministrative vanno riorganizzate, non è solo una questione di rendere più efficiente quello che fanno, ci sono delle cose che non possono più fare e che non devono più fare e bisognerebbe eliminarle, gradualmente ma bisognerebbe eliminarle, altre vanno potenziate come la scuola pubblica, come gli asili nido. Da questo dobbiamo partire perché oggi noi abbiamo fatto qualche passo avanti, qualche passo avanti rispetto a questi perché una parte del lavoro di Bondi è un lavoro prezioso, un'altra parte lo è meno perché ad esempio utilizzare come parametro quello del personale dei comuni rispetto alla popolazione che apparentemente di buon senso finisce per penalizzare quei comuni come in tante nostre amministrazioni che hanno fatto gli asili nido e che hanno gli insegnanti di asili nido e hanno un rapporto alto tra personale e popolazione residente. Se noi non facciamo queste discriminazioni e poi metto i sindici intorno al tavolo e gli dico devi raggiungere quell'obiettivo là di personale sulla popolazione, faccio un'operazione che non è un'operazione di spending review, sto tagliando un servizio, è un altro discorso, allora dobbiamo farlo apertamente, abbiamo dei vincoli da soddisfare ma facciamo i discorsi apertamente, a me non piace quando non ci diciamo la verità. Poi io non l'ho votato, l'avrei votato se fossi stato in Parlamento ma il fatto di non averlo votato o di averlo votato se fossi in Parlamento non mi copre gli occhi rispetto a punti positivi che indubbiamente ci sono e altri punti che vanno cambiati, anche perché non dimentichiamolo mai, ma questo governo non è che si regge solo col voto del PD, si regge anche sul voto del PDL, non sono sicuro che noi su tutti questi temi la pensiamo esattamente col PDL, quindi che ci sia qualcosa che non va nei provvedimenti che fa questo governo che deve avere anche il voto del PDL, non mi stupisce e nemmeno lo considero una responsabilità che posso mettere sulle spalle di Monti o del Ministro o di settore perché la realtà parlamentare, la maggioranza parlamentare è quella che è. Però ecco io credo che una forza progressista come la nostra deve sapere anche fare un discorso che può essere in controtendenza rispetto a certi luoghi comuni che rischiano poi di travolgerci perché tutti qua dentro vogliamo efficienza, vogliamo una macchina pubblica che funzioni, vogliamo valorizzare il merito, però dobbiamo fare questo perché fermarci alle parole d'ordine rischia di farci fare passi indietro e io ritengo che invece dobbiamo fare tanti passi avanti per un cambiamento, perché è evidente che così non va, ma per un cambiamento che deve essere progressivo. Vorrei che noi aggiungessimo sempre questo aggettivo al sostantivo cambiamento. Noi siamo quelli che vogliono il cambiamento, il cambiamento non è detto che sia necessariamente progressivo, può essere anche un cambiamento regressivo, noi vogliamo un cambiamento ma un cambiamento che vada avanti, vada avanti e dia risposte a chi lavora, a chi ha bisogno di servizi pubblici e in particolare a quelli che ne hanno più bisogno. Grazie. Allora, io devo assolutamente stare nell'orario, credo che quest'ultimo intervento in cui io mi ritrovo molto fa la differenza tra la ragioneria e la politica e credo che noi oggi dobbiamo invece stimolare il governo che sosteniamo in Parlamento, che è un governo che sosteniamo convintamente perché è un governo di emergenza nazionale, a dire con chiarezza e a produrre le condizioni per cui poi il Partito Democratico quando si troverà, speriamo, a governare il Paese con una piena legittimità democratica, con le elezioni politiche sarà in grado di mettere le cose a posto. Credo che sia importante, dobbiamo dire con chiarezza agli italiani che noi siamo d'accordo a fare la spending review nel welfare, ma che il welfare per noi è un valore importante e che al limite le risorse finanziarie che metteremo nel welfare saranno di più, che dobbiamo fare la spending review nella scuola, quante inefficienze ci sono nel sistema dell'istruzione pubblica di questo Paese, quante sistemi che non funzionano a Torino o magari in altre parti d'Italia, ma questo non vuol dire che il Partito Democratico non deve investire nella scuola pubblica più risorse. Allora io credo che proprio per il principio di responsabilità politica del ceto politico sia utile farla questa considerazione, perché altrimenti diventa una melassa ragionieristica su cui tutti si trovano d'accordo, perché dire più efficienza, riduzione degli sprechi e riduzione dei costi brutti conservatori che non volete tagliare le vostre rendite di posizione e le vostre d'accordo. Però io credo che quello che qualifica e deve qualificare la proposta riformista del Partito Democratico sia anche dire con chiarezza che per il PD e per la coalizione con cui il PD si presenterà alle elezioni alcune delle cose che abbiamo detto sono rilevanti e importanti e altre lo sono meno e quindi questa spending review la faremo anche tra settore e settore. Io chiudo solo con una domanda a Stefano Fassina molto puntuale, molto breve e gli lascio a lui la conclusione del nostro dibattito, peraltro ringrazio veramente i nostri relatori, non abbiamo più tempo per gli interventi anche perché è già tardi, però una domanda puntuale perché mi è stata posta e mi è stata chiesta in questi termini. Domani che il PD governa il Paese, come risolve il problema degli esodati? Ma innanzitutto credo che un intervento è premetto che se oggi siamo ad un punto abbastanza avanzato sugli esodati è perché il PD ha lavorato molto duramente alla Camera e al Senato prima per il primo gruppo di 65 mila, poi per il secondo gruppo di 55 mila. Io ritengo che ci sia un'emergenza che vada affrontata prima della prossima legislatura. Qualche giorno fa abbiamo mandato all'Inps una serie di casi che per ora rappresentano dei numeri che vanno se sono nell'ordine delle migliaia di uomini e donne che dal primo gennaio 2013 non avranno nulla, cioè sarebbero dovuti andare in pensione, gli finisce la mobilità, gli finisce quella parte di reddito che avevano concordato o semplicemente perché licenziati da una piccola impresa non hanno nulla, non avranno la pensione. Ecco c'è un'emergenza di quella fascia là, poi nella prossima legislatura penseremo a quelli del 2014 in avanti, ma c'è un'emergenza 2013 che noi dobbiamo risolvere subito, altrimenti si creano delle situazioni di disastro sociale insostenibile. L'impegno che per quanto mi riguarda credo dobbiamo portare avanti è che nella legge di stabilità che il governo presenterà a fine mese in Parlamento, questo intervento specifico su coloro che sarebbero dovuti andare in pensione a primo gennaio 2013 vada fatto, abbiamo dei nomi e cognomi di persone che si trovano in questa situazione. Poi nella prossima legislatura affronteremo il problema anche dell'altra parte, di quelli che sono rimasti fuori, bisognerà mettere in campo politiche attive per il lavoro perché un pezzo della riforma che non è stato adeguatamente affrontato riguarda le politiche attive per il lavoro e verificare in che misura il lavoro dopo i 60 anni possa ritrovare lavoro. Ci sono una serie di interventi che vanno fatti, ma oggi la priorità in questa legislatura, prima che finisce la legislatura, sono quei uomini e donne là che devono avere una risposta. grazie Stefano, allora grazie all'onorevole Tabacci, senatore Morando, a Gianni Cortese, a Stefano Fassina e un ringraziamento a tutti voi che avete avuto il piacere di seguire con questo Grazie per la visione!